Oggi voglio parlarti di 10 consigli per una buona alimentazione che puoi trovare e puoi scaricare facilmente anche dal mio blog. Concentrati sui nutrienti anziché sulle calorie. La valutazione di un alimento solo dal punto di vista calorico è ormai superata. Un alimento è molto di più, è composto soprattutto da macronutrienti come proteine, carboidrati, grassi e soprattutto micronutrienti, quindi vitamine, minerali e antiossidanti. È fondamentale andare a vedere la risposta biochimica ormonale che l'alimento produce all'interno del corpo. Preferisci la qualità alla quantità. Mangia un alimento qualitativamente superiore, magari in porzioni più piccole, piuttosto che un alimento junk food in porzioni più grandi. In questo senso è importante imparare a leggere le etichette nutrizionali, vedere com'è composto l'alimento. Anche per questo motivo è importante preferire la qualità alla quantità. Aggiungi piuttosto che togliere. Molte volte quando si inizia un regime alimentare le persone pensano a cosa non devono più mangiare, non concentrandosi su quello che invece possono aggiungere ad un'alimentazione. Quindi impara per esempio a utilizzare nuovi alimenti, nuove combinazioni, mangia più verdure, mangia per esempio più semi oleosi, aggiungi alimenti anche che non fanno parte della nostra tradizione classica mediterranea. In questo modo arricchirai e darai una varietà più completa alla tua alimentazione e alle tue abitudini quotidiane. Scegli i carboidrati giusti. La questione dei carboidrati giusti è un po' un dilemma. Molte volte si consiglia e si tende ad eliminare del tutto i carboidrati. In realtà abbiamo bisogno di carboidrati, abbiamo bisogno di zuccheri, ma degli zuccheri giusti. Scegli e preferisci carboidrati a lento assorbimento, carboidrati e cereali integrali e limita invece gli zuccheri semplici che sono presenti soprattutto nei dolci, nello zucchero, che hanno una velocità di assorbimento molto più potente e questo ti può portare a degli sbalzi glicemici e anche ad avere degli attacchi di fame. Scegli i grassi buoni. C'è un po' una paura da parte di tutte le persone verso il consumo dei grassi. I grassi e gli alimenti contenenti lipidi sono essenziali nella nostra alimentazione. Pensa che la maggior parte degli ormoni vengono prodotti proprio a partire dai grassi e questo ti deve far capire quanto la loro presenza nell'alimentazione sia fondamentale. Concentrati sulla scelta di grassi buoni come l'olio extravergine d'oliva oppure semi oleosi, mandorle, noci, nocciole e anche alimenti che naturalmente contengono grassi buoni e benefici come per esempio il pesce azzurro, il salmone, il tonno, lo sgombro. Anche in questo caso cerca di fare la giusta scelta e non eliminare totalmente i grassi dalla tua alimentazione. Le proteine Parlare delle proteine ormai è diventato un campo minato c'è una paura a volte anche troppo infondata rispetto al consumo di carne anche in questo caso è opportuno fare una scelta di qualità pensando anche alla giusta frequenza e quantità del consumo di proteine durante il giorno e la settimana. Le proteine sono essenziali e soprattutto gli aminoacidi in esse sono importanti che servono al buon funzionamento del sistema immunitario al mantenimento della buona massa muscolare a dare il giusto senso di sazietà. Puoi fare una scelta qualitativa scegliendo le giuste proteine, una carne che sia grass fed da allevamento non intensivo e stessa cosa per il pesce quindi andando a lavorare molto sulla quantità senza esagerare e sulla giusta frequenza delle proteine durante il giorno o la settimana. Ricordati che la verdura, la componente vegetale, è l'alimento che deve essere sempre presente durante la giornata. Impara a consumare 5 porzioni di verdura durante la giornata ed esse ti assicureranno il giusto apporto di fibra, ti daranno il giusto senso di sazietà e andranno anche a modulare l'assorbimento dei vari nutrienti per esempio diminuiranno l'assorbimento di grassi e di zuccheri ti consentiranno di introdurre anche vitamine, sali minerali e soprattutto antiossidanti e composti fitochimici da un potere benefico e importante a livello salutare. Occhio alle porzioni. Le porzioni vanno sempre personalizzate è chiaro che i fabbisogni metabolici, i fabbisogni calorici cambiano da persona a persona in base al sesso, all'età, all'attività fisica, anche alle varie patologie quindi esse vanno sempre valutate e personalizzate se pensiamo al fabbisogno di grassi, proteine, di carboidrati durante il giorno quindi è opportuno valutare le tue giuste porzioni e i tuoi corretti fabbisogni metabolici per la giornata. Mangia lentamente. Esiste una connessione importante tra sistema digerente e sistema nervoso e infatti mangiare lentamente, concedersi il giusto tempo per consumare il pasto permette l'invio di segnali di feedback, di sazietà, dal sistema digerente al sistema nervoso in questo modo permetterai un maggior senso di sazietà e soprattutto una migliore digestione e assimilazione dei nutrienti Bevi acqua. Il cervello è composto dall'85% di acqua, i muscoli da 70% per cui qual è la bevanda migliore che ti conviene bere? È sicuramente l'acqua. Lascia perdere tutte le bevande zuccherine, gassate e concentrati sull'acqua. Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, due litri è fondamentale per permettere la corretta idratazione corporea, per dare anche senso di sazietà, anche per favorire la digestione e produrre i corretti enzimi digestivi Se non riesci a bere l'acqua così com'è da sola, puoi anche provare ad aromatizzare l'acqua aggiungendo per esempio del succo di limone o del succo d'arancia In questo modo berrai un'acqua da sapore più piacevole che avrà un effetto idratante e piacevole per il tuo corpo. Sono questi i 10 punti della corretta alimentazione che puoi trovare nel mio ebook che è facilmente scaricabile dal mio sito che trovi indicato qui sotto. Inizia oggi stesso ad applicare questi 10 consigli per migliorare la tua alimentazione e fare delle scelte alimentari più consapevoli